Più di 100 idee, 7 aule tematiche, 1100 iscritti, Italia Camp, associazione di studenti, imprenditori, professionisti, è approdata questa mattina a Lecce nel complesso ecotecne dell'Università del Salento, dopo la tappa romana e prima di quelle a Bruxelles e Milano. La mission è di quelle decisamente innovative, selezionare 10 proposte per cambiare il paese. Per tanti giovani con idee con cui confrontarci, quindi è il ruolo dell'Università, un posto in cui le idee trovano le gambe per camminare e per portare magari una crescita per il futuro, per il progresso di tutti quanti. Dopo l'iscrizione online al concorso, ora è il momento dell'ascolto. Si presenta il proprio progetto nel corso di un bar camp dove relatori e pubblico interagiscono tra loro senza differenza. 5 minuti a disposizione per raccontare la propria idea e 10 per raccogliere le opinioni di pubblico ed esperti. Le idee selezionate da un'apposita commissione scientifica saranno messe al servizio della società, pronte per essere realizzate. Insomma, un'opportunità unica per creare lavoro, come ha sottolineato Alessandro La Terza, presidente della Commissione Cultura di Confindustria. È un'esperienza di esplorazione dell'universo della creatività giovanile su temi selezionati. È importantissima perché certamente verranno fuori una decina o più di idee che saranno valorizzate, ma il mio pensiero è che è molto più importante questo lavoro in qualche maniera di indagine, di verifica, di sollecitazione, con l'auspicio di poterne fare tesoro successivamente con un'attività strutturata. Grazie. Grazie.